Con il carrello in prefettura partono ufficialmente le elezioni del 2009. Che materiale state distribuendo? Distribuiamo le urne e le tessere per le votazioni taglianti di convalida, poi le pubblicazioni per le manifestazioni comunali. Tutto a posto per il momento? Per il momento sì, facendoci con giur. Tutto a posto? Tutto benissimo. Non sa che questo è il primo passaggio ufficiale per le elezioni del 2009? Certamente, anche se siamo degli incaricati a ritirare il materiale, però siamo a corrente di tutto. Se non c'erano elezioni pesanti, lei con il carrello? Sì, perché il materiale è un bel po', le sezioni sono tre e bisogna poi, andiamo per anno, anche rinnovare le urne e tutto, per cui si aggiunge sempre del materiale che va a sostituire quello usurato, insomma, che negli anni passati poi praticamente non si è potuto riutilizzare per... Eh sì, diamo il via alle elezioni ufficialmente. Facciamo partire il carrello, così almeno abbiamo questa immagine di partenza. Signore e signori, partono le elezioni del 2009. In bocca al lupo, eh? Grazie anche a voi, grazie di tutto. Comandante, insomma, lavoro questa mattina? Eh, purtroppo sì. Il primo passo ufficiale per le elezioni del 2009? Sì, in effetti questo è il primo passo per poter effettuare queste elezioni. Pensano queste elezioni o no? Eh, un pochettino sì, un pochettino sì. Mi raccomando, forza. Grazie. Grazie. Grazie.